ciao a tutti e benvenuti su bimbi creativi oggi vi mostro come trasformare un foglio di carta in un fiocco di neve in pochissimi minuti e potete creare tutti i fiocchi di neve che volete con le fantasie che preferite vediamo subito come fare allora per prima cosa vi servirà un foglio a 4 il foglio va piegato in modo da creare un quadrato vedete in questo modo poi si tira via la parte in eccesso ecco qua tiriamo via ok una volta ottenuto diciamo questo quadrato dal nostro foglio a 4 andiamo a ripiegare in questo modo se vi perdete dei passaggi non preoccupatevi perché troverete il video pubblicato anche sul mio canale youtube dove vi chiedo di iscrivervi e di seguirmi attivando anche la campanella così non vi perdete nessun video andiamo avanti con la spiegazione quindi vi faccio rivedere brevemente abbiamo tagliato il foglio a 4 ricavando un quadrato dal quadrato abbiamo creato il triangolo piegandolo l'abbiamo ripiegato e adesso facciamo la terza piegatura che si fa in modo da creare tre sezioni e questa è la parte un po più complicata ecco qua ma neanche tanto dai ce l'abbiamo fatta quindi abbiamo creato questo questa questa forma in questo modo vedete che sono tre sezioni cosa fare adesso si gira e si tirano via queste puntine che vedete qua in alto dopodiché una volta fatta questa operazione andiamo a disegnare il nostro fiocco di neve dove vi farò vedere qual è il trucco per far sì che il fiocco di neve venga e venga bellissimo vi ricordo che questi fiocchi di neve possono essere utilizzati come decorazioni oppure li potete usare anche per decorare dei dolci quindi se avete delle delle torte volete fare una torta dove spolverare sopra dello zucchero a velo oppure del cacao potete utilizzare questo metodo che per dare insomma la forma la decorazione del fiocco di neve alla vostra torta allora faccio un primo disegno dopo potete fare tutti i disegni che che preferite e vado a ritagliarlo qual è il trucco il trucco è quello di lasciare questo pezzettino qua unito quindi questo pezzettino qua per circa un centimetro un centimetro e mezzo non deve assolutamente essere tagliato perché sennò il fiocco di neve non si crea ma si vi si creano tutti dei pezzettini allora andrò a ritagliare il mio fiocco di neve seguendo il disegno che come vi dicevo può essere di qualunque genere quindi potete divertirvi con i bambini a creare fiocchi di neve partendo da disegni differenti e vedere cosa scusate cosa viene fuori allora qui tiriamo via i nostri pezzettini di carta e li mettiamo da parte nel frattempo vi ricordo se vi piacciono i lavoretti di acquistare i miei libri su amazon dove li trovate digitando nella lentina di ricerca irene marzi libri perché ve lo dico perché tra un po iniziano le vacanze di natale e quindi vi conviene non farvi trovare impreparati con i bambini a casa che vi dicono non so cosa fare oppure che passano ore e ore davanti alla televisione invece voi gli regalate per natale un bel libro dei miei dei lavoretti e così avete i pomeriggi creativi garantiti che è un modo insomma anche per passare un tempo di tempo con i vostri bambini nel frattempo chi chiacchiero sto andando avanti a ritagliare il mio fiocco di neve facendo attenzione a non tagliarmi perché queste forbici sono favolose tagliano tutto ma tagliano proprio tutto tutto quindi bisogna farci un pochino di attenzione allora manca l'ultimo pezzettino e poi andiamo a vedere se effettivamente si è creato il nostro fiocco di neve quindi se ha funzionato il tutto allora mettiamo da parte le forbici e ora non ci resta che aprire il nostro fiocco di neve e vedere con il disegno che abbiamo creato qual è il risultato finale ecco vi consiglio di aprirlo con delicatezza perché si potrebbe rompere ecco qua guardate che bel fiocco di neve che abbiamo realizzato in pochi minuti e partendo da un foglio di carta quindi come vi dicevo vi servirà solo un foglio di carta 4 bianco oppure di un'altra misura se volete fare il fiocco di neve più piccolo una matita in questo caso io ho trovato questa matita nera ma insomma un pennarello quello che volete e un paio di forbici come vi dicevo potete usare questi fiocchi di neve per decorare la casa per fare dei lavoretti oppure se voi li appoggiate sopra alla torta magari li fate con la carta da forno o con o con qualcosa un po più igienico rispetto al foglio di carta 4 e le appoggiate sopra la torta e spolverate con il zucchero vero oppure con il cacao tirate via lentamente ed ecco qua che vi viene la decorazione in pochi minuti se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace se vi va condividetelo utilizzando l'apposita freccettina ricordatevi di iscrivervi al mio canale youtube e di mettere segui alla pagina facebook di bimbi creativi per oggi è tutto vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti